...le Pioli, questa aggressività, recupero palla e conclusione spettacolare da parte di Banega che ha saputo resistere fisicamente su Milinko Missavic che questa gestione della palla oggi non è stata sua ottimale e poi scarica un destro all'incrocio e trova un gol spettacolare eccolo qui, guarda come tiene Marchetti la tocca ma non riesce a tenerla si, la lucina bene quella palla lì, se la sposta, se la mette sul piede destro con la suola se l'aggiusta e poi trova... Marchetti la tocca, hai visto bene Fabio ma non riesce a tenerla due gol di Banega in Serie A fino adesso, uno alla Roma e uno alla Lazio questo molto bello, importante a sbloccare la partita con una volta Lazio meglio nei primi minuti poi pian piano l'Inter come nel primo tempo ha preso campo ha cominciato a sviluppare gioco alternando giocate esterne ma anche e soprattutto andare per vie centrali e per vie centrali ha trovato il gol pallone gestito da Condogbia, Murillo